Lalalalalalalala, uè, uè, tipo le testa, tipo le testa, uè, uè, a che ci sogno, tipo le cose, tipo le cose, uè, 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 buongiorno! E benvenuti alla vostra gira di Mussomeli, ormai più scatenata che mai, e in questi giorni fino al 31, che è l'ultimo giorno di trasmissioni, io vi presenterò brani tratti dagli ultimi due cd di Giuseppe Giambrone, che è appunto Tasso Forever e Attacca Bastiano, o intanto c'ho questo, poi vi faccio vedere pure l'altro, che sono riusciti in pochissime copie, in tiratura limitata per tutti i fans che lo volessero acquistare, quindi acquistatelo in rete, a un prezzo proprio, ma è il cateno, proprio che io mi vergogno pure a vendere la cusse basso, ma intanto è la concorrenza, che va a fare? E oggi vi faccio sentire un brano che c'è il cane sanguro cuore, e ballare come i tazzariti, allora poche chiacchiere e vai con le danze, sentite la gira? Super amicchi, sì! Ladies and gentlemen, boys and girls, girls and gay, Jera, Rami, Rami, Rami! Tutte! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!